Sono il dottor Fabio Fusconi, direttore clinico di gruppo delle Cliniche Dentali Santa Teresa. Allora, la chirurgia guidata è fantastica. Io da 12 anni la utilizzo, devo dire, fin dal primo giorno. Ho proprio capito i vantaggi incredibili per il medico, ma soprattutto per il paziente. Il paziente esce dall'intervento e dice, ma me l'hai fatto? Perché è veramente minima, precisa, sicura, spesso non si devono incidere le esigive, spesso, quasi sempre, non dobbiamo dare punti di struttura. E quindi questo già ne crea, ne fa una tecnica veramente eccezionale. Io sono innamorato di questa cosa da sempre. Grazie a un accessorio digitale che abbiamo disegnato proprio noi e inserito nei nostri software. Riusciamo, pensate, a produrre tutto quello che serve per l'intervento in anticipo. Lui lavora nei suoi software su un modello della bocca del paziente come se avessimo già inserito gli impianti. Pensate, invece dovevamo ancora metterli. A quel punto mi fornisce il lavoro come se noi avessimo preso di pronta su un intervento fatto mesi prima, ma l'abbiamo simulato e quindi dobbiamo ancora farlo. Per cui il giorno che io opero il paziente è tutto pronto. Non devo fare nient'altro che mettere gli impianti con la guida, perché in maniera molto semplice, e mettere i denti già pronti. Il tutto in un'ora e mezza. Pensate che prima ci volevamo una giornata, anche due, per fare un lavoro del genere. Le nuove tecnologie, di cui le nostre cliniche sono tutte dotate, e in particolare il digitale, ci consentono di ridurre al minimo, se non eliminare tutti quelli che sono i disagi più tenuti dai pazienti, specialmente in seguito all'intervento più diversi, quindi dolore, gonfiore, ematomi, sono ridotti veramente al minimo. Questo tipo di approccio, poi essendo estremamente mini-invasivo, è particolarmente adatto a persone che abbiano una problematica di salute o a persone avanti con l'età, quindi a persone anziane. Se non di salute non ci sono limiti di età per subire interventi di chirurgia, e mi sento di dire anche che, specialmente in età avanzata, il comfort e non avere disagi nella masticazione è estremamente importante. . . . . . .